In questo esempio mostriamo che cosa vuol dire che la forza di gravità, la forza peso, è una forza conservativa. Non è una dimostrazione, è soltanto un esempio dove ho inventato dei numeri nel modo concettualmente corretto per spiegare che vuol dire che la forza peso è conservativa. Abbiamo un sasso che viene lanciato da questa posizione, il sasso descrive una parabola, raggiunge il punto di massima altezza, cade a terra, poi viene riportato da C a D, per esempio potrebbe essere un cane che mi riporta il sasso qua, oppure un nastro trasportatore e poi in D c'è un montacarichi che mi riporta il sasso in A. Quindi io sto prendendo un percorso chiuso, ho preso questo, potevo prendere un percorso chiuso qualsiasi. E voglio calcolare il lavoro che fa la forza peso su questo sasso che si sposta lungo questo percorso chiuso. Ricordiamo che il lavoro, dobbiamo dire chi lo compie, la forza peso, su chi, sul sasso, e mentre il sasso compie quale percorso? Questo percorso chiuso, A, B, C, D, A. Quindi andiamo a calcolare il lavoro che fa la forza peso in ogni tratto, il lavoro che fa in A, B, B, C, C, D, D, A. Eccoli qua. Cominciamo con la fase di salita. La forza peso tira l'oggetto verso il basso, l'oggetto sale in alto. Dividiamo il percorso in tanti pezzettini, quindi in tanti piccoli spostamenti, e in ogni spostamento la forza peso fa un lavoro resistente. Perché? Perché l'oggetto essenzialmente sale verso l'alto, ma la forza lo tira in basso. Vediamo infatti che l'angolo che si forma tra i due vettori, forza peso e spostamento, è un angolo ottuso. Quindi abbiamo tanti pezzettini di lavoro negativi. Immaginiamo che tra A e B, sommando tutti questi pezzettini di lavoro resistenti, il lavoro che fa la forza peso tra A e B sia meno 10 J. In B, per un attimo, la forza peso non fa lavoro, perché lo spostamento per un momento è orizzontale, la forza peso è verticale, l'angolo è un angolo retto, quindi per un attimo fa lavoro nullo la forza peso. Poi c'è la fase di discesa, dove lo spostamento avviene stavolta verso il basso. Anche la forza peso tira l'oggetto in basso, quindi la forza peso fa un lavoro motore. Anche qui dobbiamo sommare tutti i pezzettini di lavoro, idealmente, e otteniamo, per esempio, 15 J positivi. Meno 10 J era il lavoro resistente tra A e B, più 15 J è il lavoro motore tra B e C. Perché è maggiore 15 e maggiore di 10? Perché questo spostamento, questo tratto è più lungo. Poi, la forza peso agisce sempre verso il basso, tra C e D, ma l'oggetto si sposta in orizzontale. Quindi spostamento orizzontale, forza peso perpendicolare allo spostamento, lavoro nullo. Infine, nel tratto di risalita di A, la forza peso va verso il basso, lo spostamento va in alto, quindi è un lavoro resistente. La forza peso fa un lavoro resistente, per esempio, di meno 5 J. I numeri li ho inventati, però li ho inventati nel modo corretto affinché la somma di tutti questi lavori faccia 0. Infatti abbiamo meno 10 J più 15, 0 J meno 5, sommando tutto 0 J. Non è una dimostrazione, è soltanto un esempio numerico per far capire come si comporta la forza peso. Fa una serie di lavori positivi, negativi, nulli, ma nel complesso, lungo un percorso ciclico, cioè l'oggetto si sposta lungo un percorso chiuso, nel complesso, la forza peso fa un lavoro pari a 0. Perché accade questo? Perché fa il lavoro 0? Perché la forza peso è conservativa. Questo si può dimostrare rigorosamente, questo è soltanto un esempio per far capire come si comporta la forza peso su un oggetto che percorre un percorso chiuso. E ritorna al punto di partenza.